532 milioni per le Marche si delibera l'accordo di coesione Verso le elezioni a Pesaro i candidati di una città in comune Mercato e disco orario si potenziano gli avvisi antimulta I primi 30 anni dell'ente Parco San Bartolo Interisti pesaresi scatenati per lo scudetto della seconda stella Buonasera a tutti voi amici e amici di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sulle canale 80 per questo nostro spazio informativo di Rossini News telegiornale di martedì 23 di aprile che apriamo questa sera dandovi notizia di un importante passo avanti di fondi governativi in direzione Marche Ricorderete infatti la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni lo scorso 28 ottobre alla Fiera del Tartufo di Acqualagna in quell'occasione ci fu la firma col Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sull'accordo di coesione per 532 milioni di investimenti destinati alle Marche investimenti che sposano una logica di riequilibrio fra regioni che pagano uno stato di ritardo infrastrutturale Oggi a Palazzo Chigi è stato terminato l'iter per deliberare i fondi 415 milioni saranno destinati a infrastrutture, strade e porti 63 milioni saranno i fondi per turismo e cultura 53 milioni per occupazione e istruzione E continuiamo la nostra marcia di avvicinamento quotidiana verso le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno Nel prossimo servizio, nella prossima intervista lo facciamo su Pesero andando a conoscere meglio la lista civica Una città in comune di Enzo Belloni che ha presentato i suoi candidati al Consiglio Comunale Siamo riusciti a fare una bella lista con esperienze professionali, lavorative e di vita estremamente differenti Queste sono le qualità che in qualche modo contraddistinguono la lista civica Una lista civica che è nata dieci anni fa con l'elezione del 2014 Si è confermata nel 2019 raddoppiando i consiglieri comunali L'obiettivo ambizioso di questa tornata elettorale è di raggiungere i 4 mila voti Quindi avere in Consiglio Comunale tre consiglieri che in qualche modo ci permetteranno di riuscire a portare a casa quelli che sono gli obiettivi politici che ci siamo preposti Quindi attenzione soprattutto al cittadino al benessere del cittadino e all'ascolto Ascoltare i cittadini e provare a portare in comune quelli che sono i problemi in qualche modo sono state le cose che ci sono riuscite meglio a me in particolare insomma quello che contraddistindo il mio mandato è l'operatività Cosa vuol dire? Vuol dire che tu rispondi a tutti anche a quelli che magari ti criticano pesantemente però se alle persone gli spieghi quali sono le difficoltà nell'amministrare e gli fai capire che in qualche modo ti stai dando da fare per loro sicuramente te lo riconoscono Noi vorremmo continuare su questa linea ovviamente se andremo in coalizione con il centro-sinistra piuttosto che da soli vorremmo far sì che insomma il candidato sindaco ascolti quello che è il nostro appello ovviamente abbiamo la consapevolezza che quando si è in coalizione non tutti i tuoi progetti, le tue idee riuscirai a portarle a casa però avere una voce importante all'interno del Consiglio Comunale e quindi della Giunta e dell'amministrazione è uno dei nostri obiettivi Dopo le 120 multe dello scorso martedì al primo mercato settimanale di Pesaro con sosta regolamentata da disco orario oggi si è fortemente potenziata l'informazione per accedere al mercato con la consapevolezza del nuovo provvedimento cercando di evitare sanzioni Vediamo Tutti i martedì e soltanto il martedì del mercato cittadino del San Decenzio il nuovo parcheggio di via Belgioioso via Mirabelli a servizio dello stesso mercato e del cimitero centrale è con sosta a rotazione con disco orario obbligatorio di 120 minuti Questo è il secondo martedì con questa novità il primo è stato abbastanza traumatico anche probabilmente per colpa di una comunicazione non così incisiva Oggi è diverso ci sono i cartelli scritti a penna da Valerio Tamburini responsabile degli ambulanti del mercato di Pesaro è arrivata anche una cartellonistica più ampia c'è anche la protezione civile che macchina per macchina avvisa del nuovo provvedimento per chi entra appunto nel parcheggio insomma si sta facendo di tutto per evitare un altro martedì di multe a raffica dopo le 122 sanzioni arrivate lo scorso martedì Io responsabile del mercato di Pesaro mi ero già attivato sin da martedì avvisando la gente non avevamo la protezione civile non avevamo questi cartelli ben visibili però dico questo già dal 28 marzo avevamo avvisato la popolazione di Pesaro di questa cosa anche perché diciamo così il problema nostro è quello di tenere libero il parcheggio almeno il martedì mattina per il mercato settimanale questa è una grossa realtà anche perché noi siamo l'unico mercato in Italia l'unico che paghiamo una tassa ricognitoria di 400 euro all'anno per 30 anni per poter avere questo parcheggio che è tardato solo 11 anni ora cosa chiediamo il martedì mattina questo parcheggio deve servire esclusivamente per il mercato cittadino solo questo 120 minuti che sono anche una cifra temporale più che sufficiente per arrivare e fare gli acquisti al mercato sono in due ore giri il mercato tranquillamente metti il disco orario non hai il pagamento e non prendi la multa mi sembra una cosa molto molto giusta anche perché come ripeto noi ambulanti e il mercato di Pesaro lo dobbiamo far crescere perché Pesaro merita un mercato diverso con molta più gente qua state facendo di tutto per avvisare il problema è chi parcheggia magari dal lunedì precedente che ancora non ha recepito il messaggio noi ci stiamo impegnando per non far prendere la multa alla gente però io come ho notato molta gente passa nemmeno guarda molta gente è stata scortesa nei miei confronti pur avvisandoli e quindi si sono prese delle multe a questo punto il mio compito termina qua anche perché la gente deve capire che solo il martedì mattina dalle 9 alle 13 con il disco orario si può parcheggiare altrimenti se è pieno questo parcheggio adiacente al cimitero ce n'è un altro che la sosta è illimitata è uno dei reggimenti dell'esercito più antichi e decorati d'Italia ma da vent'anni si è anche rinnovato come eccellenza internazionale nel settore delle comunicazioni operative militari parliamo del 28esimo reggimento Pavia che ha ricevuto dal comune di Pesaro un riconoscimento per questo ventennale è uno dei reggimenti d'esercito più antichi e decorati d'Italia con una storia che affonda le sue radici nel 1860 il 28esimo reggimento Pavia che dal 1958 si costituì a Pesaro come centro di addestramento reclute in questi giorni taglia il traguardo di un compleanno importante quello che dal 2004 lo configura come unico reparto operativo delle forze armate deputato alla funzione comunicazione operative sabato ha celebrato la sua funzione ventennale nel territorio pesarese con amministrazione comunale prefetto che nella lusfera di piazza del popolo hanno consegnato al colonnello di Leonardo l'attestato di riconoscenza della città fu mandato dalla mia catena di comando lo stato maggiore dell'esercito nel 2003 insieme a altri ufficiali perché avevamo un pregresso nel settore cosa abbiamo fatto? abbiamo stilato un programma addestrativo per i militari che dicevo prima anche nel mio discorso sono tutti di estrazioni diverse quindi lagunari paracatutisti artiglieri e loro li abbiamo fatti diventare quello che sono oggi i professionisti della comunicazione da speaker radiofonici a web designer a operatori audiovisivi insomma tutto quello che è oggi il mondo della comunicazione operativa e il mondo del 28esimo regimento di comunicazione operativa è oggi come reparto comunicazioni operative il pavia è deputato del delicato compito di comunicare lo scopo della presenza delle forze multinazionali in tutti gli scenari operativi in cui è impiegato dal 2004 ha agito con i propri assetti in Iraq Afghanistan Kosovo Libano Libia Uganda Kuwait Somalia Niger e Giordania e l'ambizione del progetto che adesso ci porta a essere uno dei regimenti di eccellenza nel mondo nel settore delle comunicazioni operative ringraziamento al comune di Pessaro per aver consegnato questo attestato di benemerenza a una realtà quella del 28esimo reggimento Pavia è molto vivace e molto presente in città presente sia per quanto riguarda i compiti istituzionali ma vanno anche al di là perché aprono la caserma fanno sì che i cittadini possano entrare in contatto con questa bellissima realtà tra l'altro io sono pesarese da dozione perché ho deciso con la mia famiglia di rimanere qui al di là della professione di carriera che mi porterà in altra sede e proprio questa è una stimanza concreta di quanto io ami questa città io ma posso dire la stessa cosa per i miei 550 uomini e donne del reggimento che sono veramente perfettamente integrati nel tessuto sociale culturale artistico della città stessa del territorio marchigiano esercito che naturalmente sarà fra i soggetti coinvolti giovedì nelle celebrazioni a Pesaro del 79esimo anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista il programma del 25 aprile comincerà alle 9 e un quarto con la messa in memoria dei caduti per la libertà in cattedrale seguirà le deposizioni delle corone al Sacrario di Piazzale Collenuccio e un seguente corteo di autorità associazioni cittadini che muoverà verso il monumento alla resistenza dopo la deposizione delle corone che si trà alle 10 e 30 in Piazzale Falcone Borsellino sono previsti gli interventi delle associazioni combattentistiche d'arma dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia dei rappresentanti degli studenti e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci celebrazioni che hanno la sua tradizionale conclusione al monumento alla resistenza che però è oggetto del video di segnalazione che vi mostriamo video inviatoci da un nostro telespettatore che ringraziamo immagini che mostrano come luogo di Piazzale Falcone Borsellino sia costantemente oggetto di bivacchi che sfociano in un indecoroso abbandono di rifiuti di lattine e bottiglie in particolare un problema che continua a ripetersi e che viene aggravato dalla solennità del luogo vi ricordiamo come sempre il numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370 366 72 10 zero poco fa abbiamo parlato del ventennale del ventottesimo reggimento Pavia a Pesaro 30 anni invece ha compiuto l'istituzione del parco San Bartolo domenica scorsa a Santa Marina in alto i presidenti del passato e i gestori attuali dell'ente parco si sono ritrovati per analizzare storia e futuro di un autentico gioiello del nostro territorio ne parleremo in maniera approfondita in uno speciale dedicato che Rossini TV trasmetterà venerdì 26 aprile alle 21.20 ma intanto vi diamo alcune anticipazioni in questo servizio realizzato da Paolo Pagnini siamo di fronte all'ex scuola elementare di Santa Marina Alta qua si darà avvio a un convegno importante sono 30 anni dalla istituzione del parco una legge regionale del 1994 che ha dato avvio appunto alla riorganizzazione delle aree pubbliche dei parchi e naturalmente siamo qua per ripercorrere un po' la storia di questi 30 anni lo faremo intervistando tutti i protagonisti che hanno portato avanti quest'idea e questa realizzazione del parco del San Bartolo dal 1994 a oggi noi siamo nati negli anni 90 che erano gli anni importanti per l'ambientalismo per l'ambientalismo perché per la prima volta c'è stata una legge nazionale e poi le leggi regionali che hanno di fatto dato vita ai parchi certo che far partire un parco in Italia non è semplice burocrazia problemi commi contro commi è stato difficile però quello che mi è piaciuto moltissimo è stato intanto il rapporto con gli abitanti che all'inizio è stato problematico come in moltissimi parchi in Italia perché si temeva che il parco nascesse in qualche modo contro gli abitanti sostituendosi agli abitanti e imponendo all'inizio c'è stato da discutere ma devo dire che con gli anni c'è stata una grandissima stima e direi anche un affetto con gli abitanti e i risultati si vedono perché il parco si è sviluppato molto bene noi ci siamo occupati nella nostra prima parte soprattutto della mappatura del territorio quindi studi di carattere scientifico storico per avere il materiale aggiornato e preciso su cui poi successivamente costruire il piano del parco l'esperienza del parco è un'esperienza bella e anche estremamente complessa è una gestione che va a impattare su tanti aspetti e su problematiche territoriali che sono abbastanza complesse poi questo è un parco piccolo ovviamente molto parzializzato quindi con tante proprietà e già per esempio anche andare a lavorare sulla rete escursionistica diventa difficile perché ovviamente molti proprietari non vogliono che ci entri in certe zone quindi è un parco abbastanza conflittuale conflittuale anche per altri motivi però l'esperienza è un'esperienza anche entusiasmante abbiamo iniziato un bellissimo progetto che dura 18 anni sulla migrazione della pace abbiamo visto che il parco è molto importante come promotorio per tutta la migrazione degli uccelli e poi mano a mano negli anni successivi abbiamo studiato anche i chirotteri che sono i pipistrelli abbiamo rilevato la presenza del lupo grazie alle fototrappole abbiamo messo centinaia di nidi artificiali per la fauna sempre per l'avifauna per aiutarli a nidificare e poi tanti altri progetti con le università e poi la parte grossa che continua ancora adesso per fortuna è tutta l'educazione ambientale quindi lavoriamo molto con le scuole con le famiglie e facciamo circa ogni settimana delle passeggiate naturalistiche per avvicinare la gente a questa bellezza alla biodiversità del parco stiamo inventando un parco intraprendente abbiamo presentato un progetto di discontinuità stiamo allineando i vari borghi del parco per poterli portare tutti allo stesso livello partendo da Pesero e arrivando a Gabice stiamo facendo il bando per le guide in modo tale che mentre prima nessuno sapeva chi erano dove erano e dove andavano con il bando sarà il parco che con il suo brand farà da front office per coordinare le attività sia in Italia che all'estero perché anche il museo paleontologico ci ha portato diversi docenti a livello internazionale e quindi di cose ce ne avevamo in cantiere tantissime e anche la Pesero Nerazzurra ieri sera ha festeggiato lo storico ventesimo scudetto dell'Inter vediamo Anche la Pesero Nerazzurra celebra lo scudetto della seconda stella dopo il tripice fischio di un lunedì sera d'aprile che ha sancito il ventesimo scudetto dell'Inter conquistato nella cornice perfetta del derby con i cugini milanisti decine di peserisi hanno fatto rotta verso viale della Repubblica e palla di pomodoro con suete location delle grandi celebrazioni sportive a Pesero Caroselli colpi di claxon torce fumogeni cori e sfottò in un florilegio di maglie bandiere nerazzurre accompagnate dal tricolore che celebra uno scudetto storico per tutto il popolo interista siamo noi siamo noi siamo noi i campioni dell'Italia siamo noi e Pesero dedicherà una statua all'indimenticato tenore Luciano Pavarotti di fatto cittadino adottivo di Pesero per la sua lunga residenza in Baia Flaminia in Villa Giulia sabato 27 aprile alle 19 verrà svelata la scultura bronza realizzata a grandezza naturale dal maestro Albano Poli una statua che sarà collocata in piazzale Lazzarini all'intersezione con via Curiel in una posizione prospettica alla fontana affinché possa quasi simbolicamente invitare pesaresi e visitatori al vicino teatro Rossini ed ora concludiamo il nostro telegiornale rendendo omaggio alla longevità di una cittadina pesarese auguri vai in casa auguri benata di poco buongiorno 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 i miei numeri buongiorno se a tavola abbondi il pane e il vino queste mie mani ringraziare dovete sono cotte dal sole neve callose portano avanti di dieci mani operose lavorano sempre non sono mai stanche valgono più di dieci mani bianche brava brava filastrocche e detti popolari di una memoria di ferro a far da cornice ai 93 anni della pesarese mafalda filippini da tutti conosciuta come renata al caffè gastronomico gemelli di borgo santa maria un lunedì sera di grande festa in famiglia per il traguardo di longevità della signora filippini vedova da circa 18 anni renata è stata casalinga cuoca all'ex dandonai e ha lavorato nel settore falegnameria per i suoi 93 anni è stata attorniata dall'affetto di amici e parenti in un incontro conviviale organizzato dai figli Mauro Walter e Carla alla presenza fra gli altri dei consiglieri regionali Michela Vitri e di Andrea Biancani ora candidato a sindaco di Pesaro oh occhio ciolina fammi entrare nella tua casina oh ma ti pare la casa è mia la porto via ovunque vado sempre con me e se dicendo quasi tremendo dentro la casa si ritiro una quazzone da un nuvolone sovra la terra precipitò il bel grilletto libero sietto in un rifugio lesto saltò la chiotolina con la casina in un forzato solo annegò bravissima e con queste belle e curiose immagini si chiude il nostro telegiornale di questo martedì 23 aprile martedì che però prosegue all'insegna degli approfondimenti perché subito dopo il Tg alle 20 vi mostreremo il nostro speciale realizzato Ristorante La Giara di Santa Maria dell'Arzilla da sempre teatro della Festa della Fisarmonica da 15 edizioni Festa della Fisarmonica che vi mostreremo questa sera a partire dalle 20 e poi il martedì sera è la serata di Amministrando la nostra marcia di avvicinamento verso le elezioni 2024 dedicata ai confronti in questa puntata avremo Mila della Dora assessora comunale di Pesaro nonché esponente della lista civica Forza Pesaro e la coordinatrice di Fratelli d'Italia a Pesaro Serena Boresta come detto appuntamento alle 21 e 20 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali per l'occasione condotta dal nostro Antonio Astuti Si chiude invece qui l'informazione di Rossini News e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio e vi ringrazio